Casalduri, e qui pare, come dire, lo vedo, doveroso, diciamo così. Io penso che Pontevato e Casalduri siano state le immagini veramente più drambatiche e più feroci della repressione più cortese del decennio posto in Italia. I fatti sono ai più doppi, briganti di Cosimo Giordano, che si oppoleva a questa occupazione dei mali militari, tesero una guada ad un reparto di eserchio ormai italiano e ammazzarono una quarantina di soldati. Casalduri, che era quel signore che veniva vestito in questa volta al capo di Napoli, che stava vedendo la rappresentazione a teatrale, dà incarico ai bersaglienti di marciare su questi due centri del mali militari, dove andò in Casalduri, e di fare ingiustizia. E così accadde, soltanto che c'è un piccolo particolare, che mentre la popolazione abile, quindi gli uomini, che in gran parte si erano rifugiati sulle montagne, perché non potevano sostenere una lotta impari, in quei piccoli paesi, in quei paesi erano rimasti soltanto vecchi, donne e bambini. Perché erano rimasti vecchi, donne e bambini? Perché si credeva che una ferocia prevoltese non arrivasse a tanto. Invece vengono bruciati, vengono stuprate le donne, vengono in questi due paesi, vengono praticamente messi a ferro e a fuoco. La cosa drammatica è che nell'archivio di Stato di Benevento c'è ancora oggi conservato un telegramma che il colonnello Pier Leonor Negri, che è quello che si rende responsabile della strage di Ponteo addosso, telegramma. Non vengono fuori, cioè io non so se ce l'ha. Questa era la giustizia miotese, quindi non è che avevano preso i responsabili di quelli che avevano ucciso i soldati. Ma se erano domiciliati contro la popolazione interna ero che vetti, no? A Ponteo addosso, no, ma c'è di più, perché le fosse artiatite non successe questo che stiamo dicendo. No, anche l'interno. Sì, però, non facciamo paraconti tra epoche storiche differenti che non è mai la cosa tanto comprensibile. A Ponteo addosso, penso che poi gran parte di voi siete stati a Ponteo addosso, nei pressi di quella torre, la torre circolare, un centinaio di metri sulla sinistra, sulla destra, c'è una piazzetta che si chiama Piazza Concetta Biondi. Non so se ci siete mai stati. Una piazza dove stanno nelle finestre con dei gerani, molto bella, molto caratteristica. Sapete chi era Concetta Biondi? Era una ragazza, in dodici anni, che è stata stuprata ripetutamente da una quarantina di bersaglieri. Fino a che, mentre i genitori venivano trattenuti, i bersaglieri si divertivano a stuprare questa ragazzina di dodici anni. Questa è la giustizia per voi. Fino a che è rimasta esattiva al suono. L'amministrazione del Comunicato, giustamente, ha dedicato a questa martire una piazzetta. E questa piazza non c'è da più. Però il problema non finisce qui. Perché è la mistificazione che non va al di là dell'atto e secando. Perché tutti questi fatti sono stati coperti, sono stati nascosti, non sono stati detti. Io qui devo ripetere una cosa che mi è successa a te anni. La ripeto spesso perché, secondo me, è la chiave di volta per capire tutte le bugie che ci hanno raccontato in questi anni. Perché, signori, guardate che l'unità d'Italia è stata fatta in due volte. una vado militare, quindi con le armi, a seconda con le menzogne, con le bugie. Ci hanno riempito le bugie, un pazzo. Nel 2011 io fu invitato al sindaco di Teano a tenere una relazione proprio dei fatti con Gerdente Unità d'Italia. Quando il sindaco mi chiama, che io lo conoscevo, gli dico guardi caro sindaco, io la ringrazio tra altre cose. Teano era stata una delle 150 comuni scelti nel 2010-2011 per le celebrazioni della cosiddetta ricorrenza del 150esimo anniversario. Era estate, quando il sindaco mi chiama, io dico sindaco, io la ringrazio alla cortesia. Però, guardi, devo dire che io ho una visione po' diversa dalla oleografia risorgimentale. Il sindaco si scompone e per telefono mi dice, guardi dottore, noi per questo la chiamiamo. Benissimo, contenti voi, contenti tutti, io mi sono levato un po' le responsabilità di questo. Dovevo trattare in quel contesto della dissoluzione dell'esercito napoletano. Perché questa è un'altra verità storica che va detta, diciamo, di fronte all'invasione dei miei contenti. L'esercito si scioglie, salvo il bisogno della guerra. La battaglia è molto dura, il resto è tutta una serie di pantomime che lasciano molto da pensare. Nell'arrivare in questa piazza di teatro, gremita di genna e di tribolone, c'erano i bersaglieri che stavano facendo quella... Avete visto quella carica che fanno, quelle piume che svolazzo? Ha che bene da vedersi! Va bene, a seconda dei punti di vista. C'era una persona che mi accompagnava con me e io dissi, pensa che oggi ci divertiamo. Dissi a questa persona che era loro. Dicevo, ma lascia perdere, non fare il solito provocatore. Ci divertiamo. Prima di me prende la parola un docente universitario che era siciliano, dopo parlo io e dice guardate, io mi chiedo scusa, ma oggi prima di parlare del tema di cui dovrei parlare, io voglio far fare una riflessione. Voglio suscitare una riflessione. Avete visto quei bersaglieri che hanno fatto la carica in cui tutti abbiamo battuto le mani? Ebbè, quelli stessi, mutati smutati, sfidenti, solo con quelli stessi che il 14 agosto 1862 appunto la toffia a casa Duda hanno fatto questo, 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 questo e questo. Signori me, vi dovete credere nella sala il gelo. Era dovendo, adesso non vedo, era un cuore troppo freddo. Il gelo, non parlava più adesso, poi io dopo ho continuato la mia relazione. Vabbè, dopo di me prende la parola un altro docente dell'università di Palermo e comincia proprio così, con queste parole. Guardate che quegli episodi che ha raccontato il giornalista, attenzione anche alle parole, eh, il giornalista, perché quando ci vogliono, ci vogliono, come dire, demonisti, ci chiamano giornalisti. Perché i giornalisti non si devono interessare di storia, perché quelli deputati a interessarsi di storia sono i professori docenti universitari che però non fanno i loro mestieri. Guardate, quelli episodi di cui ha parlato il giornalista, sono episodi risaputi, risaputi da tempo. Li abbiamo studiati tutti nelle scuole. Continuiamo con questo. Allorché verso la decimundicesima fila, c'erano forse oppure 900 persone, si vede una signora che si alza, non è andata così. Era una signora esile, piccolita. Allorché il moderatore, che era tra altre cose anche il sindaco di Teatro, dice, guardi professore, fermi un attimo, vediamo un po' che vuole per la signora, eh, uno strappo al protocollo, no? Però, e sta signora si alza, dice, io sono l'insegnante, ho insegnato per 42 anni agli istituti superiori. Adesso sono in pensione da qualche tempo. Guardi professore, che io quelle cose di cui parlavo il giornalista non ho mai sentito. E non ho potuto neanche dirle ai miei alunni. Si è levata dalla sala un applauso di quelli stratosferici che secondo me il professore si metteva sotto all'altavolino. Forse non avrebbe fatto in realtà. Che cosa voglio dire questo? Che non le conosciamo. No, non è che non le conosciamo. In parte non si conoscono le cose, ma in parte si conoscono e si coprono con una spessa coltri di obbligo. E perché questo? Perché l'oleografia di Sorgimentano non può contemplare queste pagine così dire. Dire! C'è un diario di Carlo Margolfo che io è di Delebbio, credo in provincia di Vicenza. Credo. E' stato uno di quei bersaglieri che ha partecipato al Cilimbondo dell'Adolfo e lui lo dice con la sua schiettezza. Guardate che là mentre i cadaveri bruciavano noi mangiavamo perché erano tre giorni che marciavamo e avevamo una fame, non ce ne fregavano un cavolo di quello che succedeva. Ma lo dice con una schiettezza tale che farà brividi. C'è da dire che bisogna rendere un'ora al comune di Sondrio che trova per puro caso questo diario... E' la prologo di Delebbio che trova. Ad ogni modo voglio dire questo. Le pagine nere ci sono state. Il vento sta cambiando, cara Rosa. Sta cambiando perché nel 2011 Giuliano Amato si è regato a Ponte Landolfo e ha chiesto scusa al nome del governo per gli eccichi di Ponte Landolfo e di Casalto. Il sindaco di Vicenza in cui c'è una strada intitolata a Piero Leodoro Negri è ancora un altro cambiato. E' ancora un altro cambiato. Però ha preso impegno affinché cancellasse quella strada. Cosa, caro Giancarlo? Io so quello che puoi dire, però... Vedi che Sondrio sarà stato felice Groncettino Abiondi di Amato che viene a portare, scusa. E i genitori di Groncettino Abiondi che l'hanno visto strutturare per essere sognieri saranno stati felicissimi. Sono d'accordissimo. Sì aspetta, sono d'accordo con te. Però voglio dire solo questo. Che venti anni fa non era possibile la cosa del genere. Quindi il vento sta cambiando. Adesso un po' di musica dopo questi...